Si apre un mese di grande collaborazione tra sport e turismo con tante associazioni sportive della nostra città, una serie di eventi e di attività che stanno veramente portando prenotazioni nella nostra città e riempendo tutti i nostri hotel con una collaborazione con un protocollo sottoscritto proprio con queste società per realizzare dei pacchetti turistici per ospitare le persone in arrivo da tutta Italia proprio nella nostra città. Si parte da Adriatic Green Trail che è un'avventura che si può realizzare in bici, ci sono degli itinerari realizzati dai ragazzi di Fano Corsa e degli itinerari che toccano le piste asfaltate ma che vanno anche sullo sterrato e che fanno vivere tutto il nostro territorio tra mare e dentro terra, arrivando fino alle zone dell'Urbinate, del Monte Feltro, quindi che fanno veramente toccare con mano tutti i nostri fantastici paesaggi. Percorsi che oggi veramente attirano persone da tutta Italia che vogliono vivere in relax il nostro territorio. Quindi l'8, il 9 e il 10 di aprile si terrà questo magnifico evento con una serie di itinerari già tracciati dall'organizzazione da Fano Corre che appunto ci aiuterà a portare qui a Fano veramente tante persone. Ma non sarà soltanto un evento perché in realtà con queste associazioni, quindi con Fano Corre insieme agli organizzatori di Fano di Adiate Green Trail, insieme all'organizzazione di Forbici stiamo realizzando una serie di itinerari ciclabili che vogliamo proprio in un qualche modo vendere nel panorama internazionale, quindi dire Fano è pronta ad accogliervi con le vostre bici per vivere a pieno il nostro territorio.